Attivazione del nuovo centro vaccinale nel teatro parrocchiale di Via Terni. La comunità di San Massiliano Maria Colbe ha accolto con entusiasmo l'invito dell'Ordine dei Medici, dei chirurghi e dell'odontoiatri della provincia di Lecce, attraverso il vicepresidente dottor Luigi Peccaresi, di disporre il teatro parrocchiale come centro vaccinale. Il parroco Don Antonio Murrone, senza tentenamenti, ha attuato ciò che la Scea ha auspicato, cioè di mettere a disposizione spazi parrocchiali per le vaccinazioni. Il presidente dell'Ordine dei Medici, Donato De Giorgi, la pandemia ha ricordato a tutti quanto sia importante il servizio sanitario e il tempo di agire, ma nel contempo bisogna restare vigili. Le vaccinazioni vanno somministrate da personale sanitario con un'appropriata formazione. Noi abbiamo degli spazi in parrocchia, oratorio, il teatro, che in questo momento non è usufruibile. Quando era arrivata la proposta dell'Ordine dei Medici, subito abbiamo accolto questa proposta e quindi andiamo. Il tema di oggi è la vaccinazione. La vaccinazione ormai sta diventando il tema centrale di ogni nostra attività. La vaccinazione è intesa come momento di comunicazione, momento di solidarietà. Ed ecco perché l'Ordine dei Medici, insieme alla parrocchia di San Massimiliano Kolb, ha offerto o sta offrendo un hub importante, il teatro di Massimiliano Kolb, come hub vaccinale. Questo è importante perché? Perché vuol dire che oggi vaccinarsi è possibile, l'Ordine dei Medici c'è, e soprattutto vuol dire che la periferia, lì dove si trova quest'hub, la periferia è pronta ad accogliere gli ultimi, ad accogliere, ma non solo gli ultimi, ad accogliere tutti i cittadini che devono essere vaccinati. Noi oggi abbiamo prodotto anche delle spille, perché vaccinazione vuol dire protezione, vuol dire essere protetti. Ed allora via le paure, via le perplessità, i dubbi, eccetera, eccetera, il vaccino oggi è la migliore difesa contro la pandemia. La vaccinazione deve essere un atto medico. Un atto medico perché? Perché il vaccino comunque è un farmaco che viene introdotto nel corpo di un'altra persona e può a sua volta produrre delle reazioni o produrre degli effetti collaterali anche gravi a cui il medico deve poter provvedere. Le norme recentissimamente instaurate che allargano la platea dei vaccinatori non ci convincono pienamente, perché si scende da un atto medico soltanto ad un atto sanitario. È giusto che la vaccinazione sia praticata da chiunque dei professionisti sanitari, ma è assolutamente indispensabile che sia il medico a gestire il vaccino e a gestirne gli effetti. Solo così possiamo dare tranquillità e sicurezza al vaccinato. I medici di medicina generale dovrebbero essere maggiormente impiegati in questa campagna vaccinale, anche perché è una lotta contro il tempo, siamo in guerra. Purtroppo mancano i vaccini e quando dovessero arrivare le dosi, dovessero essere a sufficienza per tutti, il medico di base è l'unico che ha la possibilità di conoscere bene i propri pazienti, soprattutto i pazienti fragili, oltre che i soggetti che curano normalmente a domicilio. Come abbiamo fatto per la campagna vaccinale e anti-influenzale, nello stesso modo potremo fare anche la nostra parte in questa campagna. Siamo capillari sul territorio come lo sono i carabinieri. Il medico di base ha un rapporto di fiducia con i propri pazienti, infatti si chiamava medico di famiglia, ed è questo il motivo per il quale sicuramente non ci sarà nessuno che si tirerà indietro in questa battaglia. Ognuno farà la propria parte e noi siamo ansiosi e rispettosi della situazione attuale, di questa crisi che ha coinvolto il mondo intero. Vogliamo uscirne al più presto e vogliamo essere sicuramente determinanti.